E' stato presentato a Ginosa da Sirgan SRL il team Ginosa Motofort per la campagna di sponsorizzazione 2018. I quattro piloti della scuderia Ginosina saranno impegnati in circa dieci gare di motociclismo nel campionato italiano e dieci gare di automobilismo nel campionato interregionale. L'agenzia Ideal Lab curerà tutta la comunicazione del team offrendo alle aziende sponsor la possibilità di soffrire di tutti i benefici delle attività di marketing online e offline svolte durante le gare. Per l'occasione sono state poste in pieno centro cinque veicoli da competizione riscontrando stupore ed interesse per gli amanti di questo sport e non solo. La giornata è proseguita presso il teatro Alcanices dove Giuseppe Ruscigno ha continuato ad illustrare il progetto del suo team. Approfondendo nel dettaglio i servizi di social media e marketing offerti da Ideal Lab analizzando il programma del team Ginosa Motofort per tutto il 2018. Si è parlato delle possibilità di portare a Ginosa una gara di auto di livello nazionale e dell'organizzazione di corsi di guida sicura e guida sportiva per tutti. Una nuova realtà creata da giovani imprenditori che ha come mission quella di promuovere il territorio e le aziende locali portando benefici turistici a Ginosa. Tutti coloro che vogliono conoscere tutti i servizi offerti possono visitare il sito www.ideallab.com e seguire la pagina di Ginosa Motofort per essere aggiornati riguardo i prossimi eventi. Stamattina abbiamo messo in esposizione le nostre vetture da corsa con i piloti che erano in mezzo alla gente con foto e a dare tutte le informazioni del caso perché noi con la nostra agenzia, noi siamo un'agenzia di sport marketing, offriamo alle nostre aziende e clienti dei servizi pubblicitari che sono legati alle sponsorizzazioni sportive. Riusciamo nel mondo del motorsport a creare dei contenuti che le nostre aziende possono utilizzare per potenziare le loro pagine sui social, sul web. Noi come agenzia offriamo dei pacchetti pubblicitari, lavorando in tutta Italia, che vanno dalla MotoGP ai campionati internazionali fino ai campionati locali, sia di moto che di auto. Ovviamente in base al budget che l'azienda si è prefissata di investire in questo tipo di marketing. Su Ginosa in particolare abbiamo in programma di organizzare dei corsi di guida sportiva e delle prove di abilità e portare anche una gara di livello nazionale inserita in un calendario ufficiale che porterebbe sia per il territorio e sia per le aziende locali un ritorno d'immagine a livello nazionale. Invito tutti a visitare la pagina di Ginosa Motorsport e la sito web di idealapp.com Invito anche tutte le aziende del territorio a contattarci per conoscere nel dettaglio tutti i nostri servizi. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e tutti coloro che sono venuti a trovarci in questa giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.